Oggi, il venerdì dal sindaco, è a Macello, un comune del Pinerolese che conta 1200 abitanti, situato su due direttrici turistiche, la strada delle mele e la strada reale dei vini. Un piccolo borgo dominato da un bellissimo e integro castello medievale. Di questo e di tanto altro andiamo adesso a parlare con il sindaco. Macello è un paese di 1200 abitanti circa, con un'economia prevalentemente agricola, anche se qua ci sono anche delle importanti imprese edili. Direi che è un paese tranquillo, dove la qualità della vita è molto buona. Il problema più grande che noi abbiamo è il problema della scuola. Noi abbiamo la scuola materna e la scuola elementare, mentre per quello che riguarda le scuole medie andiamo in un vicino paese di Buriasco. Ci troviamo però in una situazione difficile, nel senso che, lo sapete tutti, c'è uno spopolamento e soprattutto una riduzione delle nascite. Questo comporta delle difficoltà a fare le classi. Non si possono realizzare classi sotto i 15 bambini, si possono realizzare pluriclassi sotto i 19 bambini. Cosa vuol dire? Che se uno si ritrova con due classi da 12, è costretto a mandare via i bambini. In una realtà dove già facciamo fatica a riuscire a trovare. Quindi sarebbe bene che chi di dovere riuscisse a metterci una pezza, perché il problema non è solo macellese, ma è di tantissimi comuni delle nostre dimensioni. Altre problematiche sono sempre legate a moltissimi comuni, che sono quelle che siamo decisamente sotto organico. Una realtà come la nostra, come il nostro comune, ha tre dipendenti fissi. Un ultimo problema che abbiamo noi è la viabilità. La città metropolitana sta cercando di risolvercelo, potenziando e ampliando la strada che va da Macello a Garzigliana. Dovrebbero partire i lavori nel mese di settembre-ottobre. Ci auguriamo che questa data sia veramente la data giusta, perché senza viabilità non può esserci sviluppo. Le attrattive si possono suddividere in due parti. Un'attrattiva storico-artistica è sicuramente il Castello di Macello. Il Castello di Macello nasce all'inizio del 1300 come fortificazione degli Acaia. ha avuto restauri sempre conservativi e si è, a differenza di altri castelli, ha mantenuto la figura di essere un maniero, nel senso che non si è trasformato in villa. Molte invece dei castelli intorno al 1700 si sono poi trasformati. Il nostro invece è rimasto originale. Gli affreschi della Cappella Stella, che è nella frazione del paese, sono in corso di restauro e vale la pena visitarli. Quelli che sono i nostri progetti futuri. Il progetto più importante è quello della realizzazione di un micronido, dove ormai abbiamo già fatto gli incarichi professionali e verrà realizzato nel corso dell'autunno. Questo serve sia per dare un'opportunità alle famiglie che hanno i problemi dei bambini piccoli, sia anche come potenziamento della scuola. Invece un altro progetto, un piccolo progetto, ma comunque un progetto in cui noi riponiamo parecchie speranze, è quella che il comune ha acquistato delle biciclette per poterle noleggiare. Questo è legato al discorso anche della strada delle mele che coinvolge diversi comuni, in modo che chi viene a Macello può tranquillamente noleggiare una bicicletta e fare un giro sul nostro territorio. Abbiamo già anche realizzato una mappa dei percorsi sia in bicicletta che a piedi. Sappiamo che noi non possiamo diventare un paese turistico, però noi ci troviamo vicino a una realtà come Torino di un milione di abitanti e speriamo che alcuni di loro vengano a trovarci sul nostro territorio per visitarlo e per portare comunque ricchezza a queste donne. Grazie a tutti! Grazie a tutti!